Pochi minuti di udienza e poi via da un accesso secondario. Per Manolo Portanova, una delle tre persone ai domiciliari per la presunta violenza sessuale nella serata tra il 30 e il 31 maggio, ai danni di una giovane, il passaggio in procura è stato breve. Era il giorno dell'interrogatorio di garanzia, ma il ragazzo ha scelto di non rispondere alle domande degli inquirenti. Però, come ha affermato il suo legale, Gabriele Bordoni, ha fatto mettere in edo su bianco che disconosce quanto riportato nell'ordinanza. L'attenzione così si sposta giovedì, quando è prevista l'estrapolazione della copia forense dei dati dai telefoni cellulari dei protagonisti di questa brutta storia. Una prova fondamentale per capire l'esistenza o meno dei filmati, ma non solo. Se poi saltasse fuori che le immagini della serata sono girate, per le persone coinvolte si potrebbe configurare il reato di rearrange porn. Nel frattempo, il GIP Jacopo Rocchi ha negato sia per Alessio Langella che per Alessandro Cappiello la possibilità di tornare al lavoro, come richiesto dagli avvocati difensori. Intanto emergono altri particolari, perché secondo quanto scritto dal giudice sarebbe accertata la premeditazione dei quattro giovani, di cui uno minorenne è denunciato a piede libero.